Benvenuti in questo nuovo video dedicato a Mistretta in bicicletta. Oggi parliamo di quanto è utile usare una bicicletta come sistema di locomozione. Avete una bicicletta? L'avete ancora nel garage? L'avete nella cantina? Tiratela fuori! La primavera è alle porte e abbiamo scoperto che andare in bicicletta non solo ecologico, non solo sta in forma, ma è un mezzo pratico, utile e veloce. Emette di buon umore. Emette di buon umore. Vi consiglio vivamente di usare la bici. Farà uscire la bambina che c'è in voi. Dunque, abbiamo messo in calendario una gita estrema, quindi ormai l'ho coinvolta in un percorso di 100 chilometri e voglio proprio vedere se la Mistretta mi segue. Ah certo, ti vado avanti. Quindi, tirate fuori le biciclette, non avete più scusa e fatevi delle belle passeggiate. Con la primavera alle porte è veramente un'ottima cosa da fare a livello aerobico, quindi riuscite a respirare a pieni polmoni. Per voi donne allenate il distretto inferiore, quindi le gambe. E poi ragazzi, io non so voi, ma a me la bicicletta piace. A te Laura? Tantissimo. Qual è la sensazione che provi quando vai in bici? Mi sento libera e mi sembra di tornare bambina. Libertà, tornate bambine. Quindi ragazzi se avete una bicicletta tiratela fuori dal garage sulla cantina, giusto? A tirare fuori? Ok, e cominciate a pedalare, perché pedalare fa bene vi fa respirare, vi fa stare al sole, vi fa stare all'aria aperta, troverete le sensazioni di libertà, ritroverete il vostro bambino o la vostra bambina anteriore e poi fate allenare bene le gambe. E se dovete andare a lavoro e avete pochi chilometri, dovete fare una commissione o avete mezz'ora di tempo libero, perché non prendere la bicicletta e venire in un bel parco e respirarvi aria dinamica? Fatelo. Quindi la bicicletta dovete usarla e non avete scuso perché la bicicletta è leggerissima, quindi non dite devo tirarla fuori dal garage. No, è leggera, la bici è leggera, leggera, quindi la prendete, la usate e muovete quelle gambotte, perché qua bisogna muovere i culi e respirare quindi i polmoni. Avete capito? E il prossimo video sarà dedicato a come attraversare i culi di Torino, no certo, il prossimo video sarà dedicato al mondo di Laura. Conosceremo questa fantastica donna, cosa fa, chi è, quali sono le sue ambizioni e naturalmente tutti i grandi feedback che sta ottenendo dal percorso. Qualcosa! 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 號! Sole, aria, natura, movimento e gioia. What else? Grazie.